Il Cosenza Anche Cosenza ha festeggiato la Festa della Repubblica, oltre alla cerimonia solenne con lo schieramento delle varie rappresentanze militari, agli onori resi al prefetto Vittoria Ceramella, anche tanti cittadini e la scolaresca del convitto nazionale Bernardino Telesio. Nel corso della cerimonia sono stati anche consegnate le onoreficenze all'ordine del merito della Repubblica Italiana e le medaglie d'onore. Finalmente una festa in presenza e noi abbiamo voluto dare questo segnale positivo, proprio come dicevo, aprendolo alla cittadinanza, proprio davanti alla prefettura, proprio per consentire la massima partecipazione di tutti come segnale di ripresa per tutti. Numerosi riferimenti nella lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalla guerra in Ucraina alla PNRR. Beh certo, la crisi internazionale anche di per sé è contraria ai valori costituzionali della pace e della libertà che sono nostri, della nostra carta costituzionale, soprattutto che erano ripercussioni sul sistema sociale ed economico e quindi preoccupazione nei nostri cittadini. Ma noi siamo fiduciosi che ci sia una vera ripresa. Nel suo messaggio il Presidente Sergio Mattarella ha ribadito a più riprese che l'Italia è un paese a favore della pace. Ma sicuramente l'Italia è nel suo DNA, proprio nella carta costituzionale, non solo per la pace in Italia ma anche in tutti i paesi che sono in Italia.